Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Vi do il benvenuto a nome di Feltrinelli Scuola a questo incontro su come insegnare a leggere e a scrivere oggi, dopo la rivoluzione digitale. Ne parliamo con Paolo Di Paolo, che saluto e ringrazio, uno scrittore, autore di romanzi, di libri per ragazzi, autore per il teatro, per la radio, insomma, instancabile. Tra le sue ultime fatiche c'è l'antologia per Feltrinelli Scuola, l'infinito narrare, un'antologia di cui vorrei iniziare a parlare con Paolo perché ci introduce un po' in questo tema di come avvicinare i ragazzi allo studio della letteratura e dei classici. Quindi lascio la parola a Paolo e grazie a tutti. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io naturalmente non vedo la platea, però spero che poi ci terremo gli ultimi dieci minuti per interagire. Spero anche che, diciamo, alcune delle suggestioni che verranno fuori possano essere utili semplicemente a elaborare, ad alimentare una riflessione su quello che vuol dire oggi insegnare letteratura e provare anche a proiettare su un orizzonte di senso pienamente contemporaneo lo studio della letteratura. Credo che siano domande che ciascuno di voi si fa ogni giorno e nessuno di noi ha delle risposte definitive, ma tutti però ci rendiamo conto di quanto siano domande necessariamente da ricaricare, addirittura da elettrificare. Non tanto perché la letteratura non manifesti più la sua, o non manifesti del tutto la sua potenza, la sua forza, ma perché le formule attraverso le quali possiamo insegnarla, possiamo soprattutto incentivare appunto all'avvicinamento, sono formule che sembrano invecchiare vertiginosamente, cioè in sostanza schemi che potevano essere utili, schemi intendo dire anche in qualche misura strategie didattiche che potevano essere persuasive fino a qualche tempo fa, sembrano perdere mordente anno dopo anno, o comunque non avere sempre la stessa efficacia. E probabilmente quindi il fatto di interrogarsi dalla prospettiva di chi insegna e chi ama la letteratura, o da chi anche, come nel mio caso, appunto ha la doppia prospettiva, quella di scrivere libri, ma anche scrivere di libri, soprattutto forse, ecco, sui giornali, può essere utile, è una sorta di alleanza strategica, insomma, che ci porta intanto a una prima suggestione, che pesco proprio dall'antologia di cui parlava Lara, perché è stata tra l'altro un'esperienza, ovviamente per me, non solo affaticante, ma nel senso proprio avventuroso, perché è una responsabilità enorme, l'abbiamo condivisa ovviamente con un bellissimo gruppo di lavoro e con un'altra scrittrice, Giussi Marchetta, e un'insegnante, Maria Rita Petrella, ma naturalmente poi sono tantissime le persone che lavorano a un progetto del genere, è anche un battesimo, perché è il primo lavoro Feltrinelli, tra i primi lavori Feltrinelli diretti alla scuola, abbiamo anche fatto leva sul grande catalogo della Casa di Triceco, e prima di entrare nel nostro ragionamento volevo proprio pescare qualche riga che ci porta già dentro il cuore del nostro ragionamento dal testo che abbiamo scelto in apertura, di mettere in apertura dell'intero percorso antologico, quindi quello del volume A, che è narrativa ai temi di educazione civica. Ecco, abbiamo preso il discorso al premio Nobel per la letteratura, al momento di riceverlo, di una grandissima autrice del ventesimo secolo, che è stata Doris Lessing, lei legatissima al catalogo Feltrinelli. Beh, insomma, io immagino che al discorso per il Nobel ci si prepari con una certa ansia, e abbiamo usato in più circostanze questi discorsi, non solo perché sono bellissimi in molti casi, ma perché credo che abbiano implicato da parte degli autori o delle autrici che ricevevano quel premio anche proprio un tentativo di andare a fondo del senso, del gesto, di scrivere o di leggere. Doris Lessing, che aveva radici nello Zimbabwe, nell'odierno Zimbabwe, in cui era cresciuta, pur essendo nata in Iran, ha vissuto anche una povertà estrema, una povertà senza libri, e a un certo momento in vita, chi la sta ascoltando in quella sede, siamo naturalmente al momento della consegna del premio all'Accademia di Stoccolma nel 2007, lei chiede al pubblico, alla platea e quindi in qualche modo anche a noi, di immaginarsi da qualche parte in Africa, in Africa meridionale, in un negozio indiano, in una zona povera, in un periodo di forte siccità. C'è una coda di gente, soprattutto donne, con ogni tipo di contenitore per l'acqua. L'indiano se ne sta con i palmi delle mani piantati sulla cassa e sta guardando una donna nera che si piega su un blocco di carta che sembra strappato via da un libro. Sta leggendo Anna Carienina. Legge lentamente, seguendo le parole con le labbra. Sembra un libro difficile. È una giovane donna con due bambini piccoli attaccati alle gambe, è incinta. L'indiano è a disagio perché la sciarpa della giovane, che dovrebbe essere bianca, è gialla di polvere. Ha polvere fra i seni, sulle braccia. Quest'uomo è curioso, dice alla giovane, cosa stai leggendo? Parla della Russia, dice la ragazza. Sai dov'è la Russia? Neanche lui lo sa bene. E dice Doris Lessing, abbiamo tutti, in questo senso, e tanto più dove mancano biblioteche, però, un bisogno di storie, ma anche un'eredità di storie. Chiedete a qualunque moderno cantastorie e vi dirà che c'è sempre un momento in cui si sente toccato dal fuoco, da quella che ci piace chiamare ispirazione. Questo risale al principio della razza umana, al fuoco e al ghiaccio e ai grandi venti che hanno dato forma a noi e al nostro mondo. Il cantastorie, diceva Lessing in quell'occasione, è nel profondo di ciascuno di noi. Il creatore di storie è sempre con noi. Supponiamo che il nostro mondo sia attaccato dalla guerra, dagli orrori che tutti facilmente immaginiamo. Supponiamo che le città venissero in base dalle alluvioni, che i mari salissero, ma il cantastorie ci sarà sempre. Perché è la nostra immaginazione ciò che ci modella, che ci mantiene, che ci crea, nel bene e nel male. Sono le nostre storie che ci ricreano quando siamo lacerati, feriti, perfino distrutti. È il cantastorie, il creatore di sogni, il creatore di miti, che è la nostra fenice, che ci rappresenta al nostro meglio nella nostra forma più creativa. Quella povera ragazza che si trascina nella polvere sognando un'educazione per i suoi bambini, pensiamo di essere migliori di lei? Noi, satolli di cibo, gli armadi pieni di vestiti che ammuffiamo fra i nostri oggetti superflui, quella ragazza e le donne che parlavano di libri e di istruzione quando non mangiavano da tre giorni, io penso che saranno loro a definirci. Beh, insomma, è potentissimo, anche solo a rileggerlo fa abbastanza emozione. Però credo che il punto sia proprio quello di riconnettere il discorso sulla letteratura a una sorgiva originaria, in qualche modo inaggirabile pulsione, propensione verso le storie. Forse in questi anni abbiamo anche un poco esagerato con la retorica sullo storytelling e sulla narrazione, ma se recuperiamo invece che questi due termini un po' abusati la dimensione così nuda e pura delle storie. E proviamo intanto a riconnettere il nostro uditorio che è fatto di ragazzi e ragazze, ormai nati negli anni duemila, anche duemila avanzati, e proviamo a riconnetterli a questa matrice, a questa matrice umana della necessità di raccontare e di ascoltare storie. Credo che sia un buon punto di partenza di ogni discorso intorno alla letteratura, per non farla sentire come un corpo estraneo, appunto, a questa dimensione che loro in realtà vivono senza nemmeno fino in fondo accorgersi, in una dimensione che è nutrita di storie. Se pensate che anche i social che loro frequentano, non quelli che frequentiamo noi attempati, diciamo così, cioè non Facebook, ormai perfino Instagram perde colpi, ma in ogni caso al netto dello specifico delle piattaforme, che sia TikTok o che sia appunto Instagram, in realtà la dimensione del racconto è potentissima, anche se parcellizzata, anche se polverizzata. Lo stesso nome storia Instagram ci dice qualcosa. Siamo invece assediati dalle storie. La popolazione mondiale in questo momento, almeno alle nostre latitudini, diciamo, è quella che nel corso della storia dell'uomo è stata esposta a più testi e a più narrazioni in assoluto. Nessuno, come l'umanità di questo tempo, è così avvolto dalle storie, dai racconti e dai testi. Testi, naturalmente, che hanno anche nature assolutamente contraddittorie, nature anche spesso, non dico amorfe, ma insomma sicuramente disossate, sicuramente problematiche, però effettivamente mai è successo, no, che ci fosse tale quantità di storie scritte, storie narrate, storie visibili, storie ipervisibili anche. E in questo senso partirei proprio da una provocazione che si potrebbe fare agli studenti e alle studentesse, quando magari preliminarmente si comincia un discorso sul senso stesso di leggere e di ragionare sulla letteratura. La provocazione è questa, cercare di costringerli a costruire, a redigere letteralmente un palinsesto dei testi, narrativi e non narrativi, della loro giornata. Quelli, cioè, che prescindono anche, esulano dal discorso scolastico e che loro non riconoscono come magari rilevanti. E tuttavia, dentro la loro giornata, ciò che leggono, ciò che ascoltano, ciò di cui fanno esperienza, dalla storia Instagram a Mare Fuori, la serie che adesso sta spopolando tra i giovanissimi, dal libro prestato da un'amica che non c'entra niente col cursus scolastico e che magari viene fuori dalla piattaforma Wattpad e poi viene rifluito, appunto, fatto rifluire nell'editoria tradizionale, perché se pensate che si dice che i giovani leggono poco, cosa che tra l'altro è piuttosto imprecisa, approssimativa, anche un po' generica e forse perfino moralistica, poi il dato di fatto è che in classifica, ai primi tre posti della classifica, praticamente ci sono due libri su tre, che sono, il cui successo è determinato da lettori giovanissimi, libri sconosciuti agli over trenta, questo a dimostrazione del fatto che esiste una platea di giovani e di giovanissimi che segue i suoi canali alternativi e che fa comunque esperienza di lettura e di letture. In questo senso, dicevo, tornando alla provocazione, è lo sforzo che loro non fanno, perché non sono portati a farlo, di riconoscere all'interno della loro giornata i momenti in cui si rapportano a testi e a storie diverse e cercare anche di mettere ordine in questo flusso che va appunto dal post frantumato alla storia che loro stessi producono, al piccolo testo che elaborano, al libro appunto aperto sul letto della cameretta, a ciò che leggono naturalmente per la scuola, a testi che leggono per interesse personale, che fanno parte anche di una iper documentazione, spesso molto superficiale, ma che li porta ad aprire tantissime finestre appunto, tantissime zone di esplorazione. Perché credo che nel momento in cui loro stessi possano avere la percezione della quantità di cose a cui ogni giorno sono esposti, potrebbero appunto accogliere in modo più duttile e più disponibile una domanda sulla specifica esperienza che crea la letteratura rispetto ad altre forme di intrattenimento narrativo. Anche la letteratura ingloba l'intrattenimento narrativo, ma ha una sua dimensione che noi non possiamo secondo me dare per scontata o per assunta, non solo perché sarebbe un poco soverchiante, diciamo così, e soprattutto rischierebbe poi di finire dentro una dimensione un po' legata a una retorica nobilitante che non ha nessun tipo di contagiosità, no? Quando si dice leggere apre la mente, leggere è importante, dovete leggere, lo facciamo magari con le migliori intenzioni, ma non siamo minimamente persuasivi, perché diventa contagioso solo ciò che funziona come esperienza reale, come racconto di un'esperienza reale. Questo dico per inciso, ma so che molti insegnanti lo fanno in automatico, io credo che sia fondamentale che gli insegnanti condividano le loro proprie letture, le loro letture extrascolastiche, che raccontino costantemente cosa stanno leggendo, anche libri che non gli sono piaciuti, entrare in classe almeno un paio di volte al mese e dire queste settimane ho letto questa cosa che non mi è piaciuta, sono andato a leggere un libro perché ho visto una serie televisiva, ho ripreso un vecchio classico, mi sono reso conto che non mi ritrovo più. Anche questo dà la dimensione di una lettura che infiltra la quotidianità e anche soprattutto la nostra quotidianità di adulti, che pur essendo araldi e propugnatori della lettura, poi in realtà siamo sottoposti pure noi a quel senso di frustrazione che generano giornate in cui non riusciamo noi a leggere, quindi figurarsi naturalmente dei giovanissimi che hanno input continui. Ma questo potrebbe essere un tavolo di trattativa interessante su cui riposizionare, diciamo così, le gerarchie, non in un senso verticalistico o appunto insomma nobilitante, ma gerarchie intese come parametri delle differenze. Che differenza c'è tra la canzone che tu ascolti, che ha una sua testualità, non necessariamente semplice o semplicistica, anche complessa, e una storia, un racconto che per via letteraria si occupa dello stesso contenuto. Come maneggia un cantautore e uno scrittore, come maneggiano un cantautore e uno scrittore lo stesso argomento. La canzone di Tananai all'ultimo festival di Sanremo racconta almeno in filigrana una storia che riguarda la guerra in Ucraina. Che cosa ti dice questa canzone rispetto a ciò che può dirti un testo letterario? E quella differenza è una differenza che può essere rilevata soltanto per confronto, per giusta posizione, non mai in modo assoluto, ma sempre appunto relativamente a una sollecitazione che nasce sul momento e che ti fa pensare che ci sia, per esempio nel caso della letteratura, una sfida soprattutto di natura linguistica. Non si tratta solo di presunta, che spesso per fortuna è comprovata, profondità, ma di sfida linguistica e intanto in quanto al numero di parole, alla ricchezza di parole che la letteratura ti propone. Il tempo di una canzone è un tempo minimo, il tempo di un romanzo è un tempo lungo e già per esempio confrontarsi sulla necessità di quel tempo lungo, perché ho bisogno di ricavarmi un tempo lungo per leggere un romanzo scritto in un tempo lungo, già questo potrebbe essere uno dei primi perché che sfugge appunto a un nato negli anni 2000, forse va anche a tanti nati delle generazioni precedenti che poi tendiamo a posteriori a idealizzare. Perché questo sforzo, perché questo investimento di energie, di parole, perché questa sfida conoscitiva che passa appunto per una sequenza che innanzitutto sintattica e poi lessicale? Ecco, se questo naturalmente lo tengo in una dimensione astratta rischia ad essere un po' meccanico come ragionamento. Se io provo invece a confrontare due tessere che si occupano appunto dello stesso pezzetto di mondo, mi rendo conto delle differenze. Non sto mettendo uno sopra e l'altro sotto, uno prima e l'altro dopo, li sto mettendo in una sorta di chiave comparatistica in cui io riesco a dedurre da questa comparazione appunto lo specifico di quell'esperienza. E su questo vorrei fermarmi ancora un secondo, perché ho la sensazione che anche tra i, non neanche i lettori adulti e le lettrici adulte, ma proprio in generale tra chi fa questo mestiere come il mio, insomma occuparsi di libri, si sia perso di vista proprio un punto, una possibilità di rispondere a una domanda che io in un libro di qualche tempo fa che si chiama Svegliarsi negli anni venti ho cercato di inserire in un questionario, anche questo un po' provocatorio, ma secondo me utile, non tanto per una platea giovane, ma proprio per noi adulti, che è un questionario legato alla difficoltà oggi nella quantità così esagerata di libri che escono, come sapete sono più di settantamila le novità che escono ogni anno in Italia, che non sono tante da un punto di vista assoluto perché sono abbastanza in linea anche con numeri di altri paesi, se non addirittura inferiori al numero di altri paesi, ma rispetto al nostro mercato sono effettivamente parecchi. Allora in un capitolo di questo libro che ho intitolato, il libro si chiama Svegliarsi negli anni venti, ma il capitolo si intitola Oli esausti, ho cercato di interrogarmi sullo specifico della letteratura nel ventunesimo secolo, giocando con delle domande che ci si potrebbe fare anche a cena fra amici. Qual è l'ultimo romanzo che ti ha fatto saltare sulla sedia a cui non vedevi l'ora di tornare, così come a quella smagliante, strepitosa, imperdibile serie tv? È una domanda che metterebbe in difficoltà chiunque o molti di noi sicuramente, perché leggiamo anche per un senso di abitudine, leggiamo perché siamo legati a un'idea di letteratura e quindi a un'idea di mondo. Ma qual è quest'ultimo romanzo che ti ha fatto saltare sulla sedia? Ma soprattutto la domanda successiva. Sapresti definire in che modo un romanzo è alternativo rispetto ad altre forme narrative, dal videogame, alle proposte Netflix, allo storytelling via social o al film che hai appena visto. Qual è l'indiscutibile specifico? Riesci ancora a vederlo? Questo era il modo in cui ho formulato la domanda al generico lettore adulto di questo libro. Ma riuscire a vedere lo specifico della letteratura è un punto che ha a che fare, diciamo così, con il rinnovamento del senso del rapporto con la letteratura. Quando cioè il lettore giovane, il lettore meno attrezzato si accorge che quello scrittore, qua non c'entra nemmeno il mi piace o non mi piace, mi ha convinto o non mi ha convinto, ma proprio rileva lo specifico di quel rapporto con la realtà. Dice ecco, lo scrittore ha fatto questo, l'altro, il cineasta, il cantautore, l'artista, il fotografo hanno fatto quest'altro gesto. E in quella marcatura della differenza che io colgo, non diciamo così, una benefica natura della letteratura per me, ma una specifica natura della letteratura in sé, che non sia teorizzata come si faceva naturalmente nella, non so, nell'ottica anche tardocrociana, desantisiana, su cui in parte ci siamo formati tutti, no? Istituire la definizione della poesia. Qua mi viene alla mente una frase, anche un po' sibillina, tautologica, di uno scrittore, critico e soprattutto poeta, Giovanni Rabboni, che diceva, anche lì un po' provocatoriamente, io non credo nella poesia, io credo in quelle poesie che di volta in volta mi fanno credere in loro. Dicevo tautologica perché sembra ribadire un concetto nella stessa proposizione. In realtà sta dicendo che più che fidare nella poesia in sé, nella letteratura in quanto tale, occorre fidare e quindi fidarsi dei singoli testi, di ciò che quei singoli testi producono in noi. E questo è naturalmente il senso anche dell'articolazione del programma del bienio che appunto aggira la storia della letteratura a favore di una scelta, di un mescidamento, di una mescolanza di testi, che è anche una campionatura dei generi, dei codici, delle tecniche. Però il punto secondo me è proprio investire sulla specifica potenza, qualche volta anche di rigetto che può produrre un singolo testo. Questo naturalmente implica non tanto una dialettica superficiale col testo appunto che si limita a mi piace o non mi piace, anche se preliminarmente è sempre utile magari sottoporla al lettore giovane, ma superarla immediatamente dopo per cercare di evitare, diciamo, di affossarsi, diciamo, in un giudizio o in un pregiudizio, ma cercare di circoscrivere, no? Le ragioni che ci hanno fatto sentire qualcosa di interessante o qualcosa di ininteressante dentro quel testo. Perché quel testo mi ha parlato? Da dove mi ha parlato? E che cosa mi vuole dire anche laddove dovesse annoiarmi, non persuadermi fino in fondo? In questo senso è proprio una relazione sempre uno a uno. Uno, lettore, uno, quel testo. Quel testo nella storia universale della letteratura e non la letteratura come fosse un corpo, diciamo così, riconoscibile. Perché invece la sua multiformità, la sua variabilità fa sì che esistano i malavoglia, ma esista anche l'ultimo libro di Niccolo Ammaniti. E non è che si contraddicono, che esista il balone rampante, ma esista anche cecità, ma esista anche il libro di intrattenimento che finisce appunto nell'esperienza di lettura dell'adolescente. E ognuno naturalmente porta con sé un timbro, porta con sé una esigenza, porta con sé soprattutto dei codici linguistici. In questa direzione aggiungerei che c'è un altro aspetto secondo me interessante, che ha a che fare con la necessità di interagire col vissuto appunto degli studenti, anche qualche volta un po' ad arte. Voglio dire, e qui farò un esperimento tra un attimo, un esperimento concreto a partire da un testo quasi proverbiale, fin troppo proverbiale che quasi mi vergogno a usarlo, ma non lo nominerò fino a che appunto non abbiamo risolto, diciamo così, il senso dell'esperimento. Voglio dire, interagire col vissuto provando a far reagire i testi che sottoponiamo con qualcosa che è legato a preoccupazioni quotidiane, ansie, domande, anche domande imbarazzanti, anche questioni private per stare a una locuzione che ovviamente richiama subito il grande libro di Fenoglio, perché la letteratura è una questione privata, è sempre il modo in cui una questione generale viene affrontata attraverso una questione privata. Se io ad arte qualche volta estraessi da testi anche della grande letteratura, quella che sembra abissalmente lontana dall'esperienza dei più giovani ad arte, estraggo dei passaggi, anche semplici frasi, che in qualche modo si insinuano nell'orizzonte di comprensione, di ricezione dell'adolescente, proprio perché a monte non è esplicito la paternità di quel testo, lo espongo come se fosse portatore di una verità universale e personale allo stesso tempo, ecco dico questo tipo di strategia potrebbe suscitare, determinare un effetto di sorpresa che poi è il nostro gancio per storicizzare, tra poco sarà più chiaro quando vi faccio un piccolo esempio. Dico però che in assoluto i libri nel nostro discorso potrebbero anche diventare, con una forzatura simbolica evidentemente, più il punto d'arrivo che il punto di partenza. I loro contenuti, ciò che raccontano in termini naturalmente di storia, ma anche proprio di suggestione, di emozione, potrebbero essere più accentuati di quanto non siano di solito, perché li inscatoliamo anche per ragioni evidentemente opportune e di didattica, e di abitudine didattica, e di anche efficacia e persuasività didattica, però li inscatoliamo dentro un valore predeterminato. Oggi parliamo di questo scrittore che è questo scrittore nel suo tempo. Se io invece estraggo dal patrimonio di quello scrittore ciò che mi sembra incredibilmente efficace e poi riattribuisco quella paternità, facendo uno spostamento che è minimo, è neanche uno spostamento d'aria in realtà, è semplicemente una posposizione rispetto alla norma, io sto facendo un esercizio interessante che è quello, e qua secondo me c'è un punto essenziale, che io faccio, io lettore adulto, quando in libreria compro un libro di cui non conosco l'autore, ed è un appalto di fiducia quasi in bianco che nasce dal fatto che io mi fido, mi affido a una copertina, a una frase letta per caso, a un incipit che mi ha colpito, a qualcuno che me ne ha parlato, quindi me lo rigiro tra le mani e poi decido di andare alla cassa. Questo movimento verso il libro come punto d'arrivo e non come punto di partenza è un movimento che noi spesso neghiamo a scuola, in un contesto scolastico. Lo neghiamo perché presumiamo, anche legittimamente, che ciò che stiamo offrendo come esperienza è un'esperienza appunto canonizzata, definita come valore nel tempo, e quindi dico oggi parliamo del balone rampante di Calvino, Italo Calvino è nato eccetera eccetera, ma questo scolla in modo addirittura a volte definitivo l'esperienza della letteratura a scuola dall'esperienza della lettura a letteratura fuori dalla scuola. La scolla perché rende non sovrapponibili i gesti. In questo senso, e poi arrivo finalmente all'esempio, uno dei suggerimenti che naturalmente con grande umiltà cerco di dare è quello di non neanche troppo limitarsi a incentivare i ragazzi e le ragazze alla frequentazione delle biblioteche scolastiche, che pure sono molto preziose come spazi, ma di insistere moltissimo, finché potete, per quanto potete, insistere sulla loro frequentazione delle librerie. Perché, e questo mi capita naturalmente tutti i giorni, vado in un luogo diverso a parlare di libri, in una libreria, in un presidio, in un'associazione culturale, in qualunque luogo, e mi trovo spesso in realtà di provincia in cui evidentemente, a differenza di quanto possa accadere a Roma, a Milano, a Napoli e nelle grandi città, non si casca dentro le librerie, non ci si finisce dentro una libreria, ci si deve andare per qualche ragione e la si deve anche cercare. In molti piccoli centri esistono poco più che cartolibrerie. In questo senso, quando tu entri in una libreria, gesto ribadisco tutt'altro che automatico per un sedicenne, tu devi orientarti in un orizzonte di proposte di cui non conosci nulla, a meno che non stai cercando qualcosa, ma anche di preciso, e magari è il libro dell'influencer, oppure il libro che devi regalare, oppure la manualistica, ecco, o il libro game, eccetera. In ogni caso, sto cercando quella cosa lì, nel percorso che faccio potrei essere catturato da qualche altro elemento. Ma anche questo, anche per lettori più attrezzati, voglio dire, come noi, è un movimento interessante di rapporto con... sì, sicuramente anche l'angoscia della quantità, che qualche volta è addirittura frustrante, è proprio di per sé, entrare in una libreria ti fa sentire appunto un po' schiacciato per le ragioni che dicevamo prima. Però è anche la gigantesca occasione imprevedibile del rapporto con un libro che non avrei conosciuto se non fossi capitato in quel momento, in quel pomeriggio, di fronte a quella copertina, non l'avessi aperto, cominciato a leggere e mi fossi sentito in qualche modo chiamato. Questo ricomporre, provare a ricomporre, non dico quotidianamente, ma insomma il più possibile, i due approcci, la letteratura a scuola, la letteratura fuori da scuola, che peraltro, e non devo certo dirlo, diciamo a una platea come questa, spesso, diciamo, sono due gesti che in qualche modo si disintegrano entrambi, si polverizzano appena finisce il ciclo di studi, perché da un lato interrompi un rapporto mediato dalla scuola con la letteratura, dall'altro interrompi qualunque rapporto con la lettura, quasi qualunque rapporto con la lettura, come dicono anche le curve, diciamo così, di sondaggio sulle abitudini di lettura, è uno dei momenti di cesura radicale, è proprio l'uscita dalla scuola, rispetto al rapporto con i libri, è proprio l'uscita dalla scuola. Quanto più noi sappiamo riconquistare, diciamo così, l'intensità e la, anche dimensione avventurosa di questo leggere un libro come un libro, cioè senza sapere chi l'ha scritto, senza sapere chi sia l'autore, senza sapere forse nemmeno il contesto in cui è stato prodotto, ecco, tanto più facciamo questo, tanto più forse riusciamo qualche volta ad accendere una dimensione di sorpresa e soprattutto proprio ribadisco a ripristinare quello che è stato anche per noi lettori poi magari appassionati, il movimento decisivo verso i libri, no? La curiosità per l'appunto, chi l'ha scritto, che cos'è questa cosa? Ecco, invece di a monte preliminarmente darmi la carta d'identità dei libri e delle storie. E dicevo facciamo un piccolo esperimento, è naturalmente un gioco di due minuti, ma voglio proporvelo perché l'ho testato un paio di stati fa con dei ragazzi molto giovani, 14 anni, 15 anni, che erano in una scuola estiva, ero stato chiamato a parlare di lettura, ero molto preoccupato appunto, no? Di parlare di lettura perché rischi quando parli con i giovanissimi di lettura appunto di fare un elenco di ragioni nobili per cui vale la pena leggere che, come dicevo, non sono per niente interessanti per loro. E invece ho provato a dire che in alcuni libri, così facendo un po' il finto saggio, in alcuni libri loro potrebbero trovare delle cose che li riguardano da molto vicini e sono anche libri remoti. Per quanto non avessi collocato nel tempo, sulla linea del tempo, il libro di cui stavo per leggere alcuni estratti, ho detto questo è un libro comunque che non è uscito l'altro ieri e ho elencato, dopo averle estratte ad arte, una, due, una decina, diciamo così, di frasi che dicono che cos'è per esempio l'adolescenza, forse in ogni tempo, no? Ve le leggo perché alcune fanno anche sorridere e poi nel momento in cui c'è la rivelazione ci chiariremo. L'ansia di rimanere a fare le ragnatele mentre gli altri escono il sabato sera, il disgusto verso un vicino di banco che si schiaccia i brufoli, il misto di ansia e di sorpresa nel contare i soldi che ti sono rimasti, certe schifezze che uno rimane incantato a guardare anche se non vuole. Ah, sul misto di ansia e di sorpresa nel contare i soldi che ti sono rimasti c'era stato un boato di adesione, la voglia di parlare al telefono con qualcuno, la voglia di non parlare al telefono con nessuno, il fastidio tremendo quando un gruppo di ragazze, questo vale per i maschi, ti guardano e ridono come delle deficienti, essere a casa di una ragazza con la certezza che i suoi arriveranno nel momento sbagliato, mettersi a piangere di colpo, a piangere sul serio, il progetto di scappare di casa, di andarsene via da qualche parte, avere mal di testa e sentirsi di schifo. Non ho cambiato una riga, ho semplicemente pescato queste frasi da una nuova traduzione di quello che forse chissà, qualcuno l'ha riconosciuto, è il Giovane Holden, cioè il libro per antonomasia dell'adolescenza. Peraltro il Giovane Holden ha segnato come lettura scolastica, non è detto che tra l'altro sortisca grandi immedesimazioni oggi, ci possono essere anche sentimenti, come dire, appunto diversi, no? E perfino un po' di così, di distanza, distanza temporale. La nuova traduzione la consiglio, questa di Matteo Colombo se non ricordo male, perché è una traduzione nuova rispetto a quella di Adriana Motti, storica e però più ormai inservibile perché è un po' polverosa. Quello che mi colpiva nella reazione di quella platea era che dopo aver elencato queste locuzioni, queste frasi, diciamo così, che riguardano comportamenti generici ma che tutti hanno sperimentato nell'adolescenza, c'è stata come una curiosità istintiva nel dire ma dove le hai trovate, dove stanno queste frasi? E appunto stanno in quello scrigno che è quel libro di cui non sai nient'altro, sai solo che però contiene quella storia qualcosa che ti riguarda. E in questo senso l'interazione col vissuto agisce dove ti promette un rispecchiamento, ma non te lo impone, non te lo assicura preventivamente, te lo dimostra in qualche misura, te lo dimostra come il tesoro che poi puoi in qualche modo finire di scoprire. Ecco, in questo dico che la tentazione qualche volta di risolvere il discorso sulla letteratura in una scala di valori, appunto, di valori che il tempo ha consolidato, è una tentazione, ribadisco, comprensibilissima, ma che dobbiamo in qualche modo sempre provare a mettere in discussione, cioè non dando mai per assunto che anche il più importante dei libri su cui ci siamo formati sia immediatamente comunicativo per la platea che abbiamo davanti, perché non lo è stato nemmeno, ribadisco, nel tempo in cui invece davamo per scontato che lo fosse, cioè un tempo che addirittura qualche volta ci precede, penso al caso del Barone Rampante di Calvino, lettura evidentemente fondamentale negli anni dell'adolescenza, spesso tra l'altro però è anche quello un rischio, perché può produrre una falsa lettura del libro di Calvino come di un libro per ragazzi che non era nemmeno nelle intenzioni dell'autore. Detto ciò, ecco, anche nel caso del Barone Rampante il tentativo è proprio quello di verificare noi stessi come docenti la vicinanza, il grado di prossimità emotiva che possono avere anche singole pagine di quel libro, ecco la dimensione antologica sicuramente in questo senso aiuta, ma una dimensione antologica che diventa perfino ludica, che in qualche misura determina appunto questa scoperta di qualcosa che sta lì dove tu non pensavi fosse o dove tu non presumevi appunto potessi trovarla. C'è un altro elemento che mi sembra possa essere interessante rispetto a questo interrogare il senso, diciamo così, del fare letteratura a scuola in questi anni, ed è oltre al fatto di partire dalle loro passioni, che credo sia comunque un esercizio sempre utile, cioè provare anche a creare delle imprevedibili, degli imprevedibili contatti tra cose che loro riconoscono come affini rispetto all'oggetto, diciamo così, del nostro insegnamento. Dico in assoluto che il grado di interattività che si può articolare nel leggere oggi in classe può essere, come dire, consolidato, questo grado interattività anche lì da un processo di lettura interrotta ad arte. C'è qualcos'altro che abbiamo perso di vista, no? Il fatto di maturare degli orizzonti d'attesa. È un esperimento che abbiamo fatto anche in parte in quest'antologia di cui dicevamo, cioè di interrompere letteralmente il flusso del racconto chiedendo allo studente e alla studentessa che cosa si aspettano che possa accadere. Il che naturalmente non presuppone un esercizio testuale, di scrittura, ma solo un esercizio mentale, cioè quella sospensione che in qualche misura intanto ripristina ancora una volta l'orizzonte del lettore che andando avanti pagina dopo pagina in un libro effettivo si chiede cosa accadrà, almeno più delle volte se lo chiede, e in qualche modo lo suppone, quindi parallelamente al libro che legge sta leggendo, sta scrivendo il suo proprio libro, sta scrivendo il suo libro potenziale. Ma poi dico che in assoluto attiva anche un codice strutturale, diciamo legato all'esperienza della serialità, ma che potrebbe, della serialità televisiva naturalmente di cui molto si nutre l'immaginario dei più giovani e non solo dei più giovani ormai, ma in generale qualcosa che si riconnette pure nella loro ovviamente inconsapevolezza a un aspetto fondativo della letteratura moderna, e cioè la sua dimensione appunto seriale. Si racconta che Charles Dickens fosse stato addirittura assediato da una folla sul molo di Southampton che voleva sapere come andava a finire, non so se Oliver Twist o Grandi Speranze, e questo a dimostrazione del fatto che il signor Dickens, che era uno tra l'altro dei pochissimi nella sua epoca, il cui volto poteva essere riconoscibile, almeno da una piccola platea di lettori, perché non solo appariva sui giornali o stilizzato, ritratto, ma soprattutto perché faceva letture pubbliche dei suoi libri, quindi era una sorta di performer antelitteram rispetto anche a tanti scrittori della sua generazione e delle generazioni successive di cui non sarebbe mai neanche intuito il volto, Dickens era uno che in pubblico leggeva le sue storie. E dico però anche che quando si leggevano appunto appuntate sui giornali queste generavano un orizzonte d'attesa che appunto poi anche determinava quell'assedio leggendario di cui si narra, ma in assoluto dico che ci dimentichiamo troppo forse spesso quanto sia decisivo anche questo aspetto, cioè questo caricare l'orizzonte d'attesa rispetto a una serie di possibilità, che non vuol dire soltanto itinerari narrativi, che vuol dire anche dimensioni di senso, cioè dove mi sta portando questa storia, dove credi che voglia portarti questa storia, che significa già in qualche modo interpretarla, che significa già non solo riassumerla per certi versi e completarla, ma analizzarla, cioè darle un senso, oppure respingere quella possibilità in qualche misura sentendosene distanti oppure non del tutto coinvolti. In questo dico che la possibilità anche nella lettura ad alta voce da parte di un docente di fermarsi per verificare non solo naturalmente l'attenzione, ma anche per dialogare con i lettori, ascoltatori, ecco questo elemento qui si riconnette a qualcosa su cui volevo ancora intervenire per qualche minuto, e cioè a una, visto che questo è l'anno calviniano, possiamo permetterci di sovracitare Calvino, diciamo così, chiamarlo in causa più volte, e lo farò appunto per un paio di occorrenze in questo pomeriggio. Ecco, il primo è la sensazione che restituisce un libro come se una notte d'inverno un viaggiatore, che non so se è un libro adatto diciamo a un ragazzo del 2023, però in ogni caso è un libro che si può usare in un certo modo, ma che soprattutto ci pone una serie di questioni che abbiamo già in qualche modo attraversato, cioè che cosa vuol dire essere lettori partecipi, che cosa vuol dire detto meglio essere protagonisti della storia che si sta leggendo. Se ci pensate, un romanzo che tutti conoscete, un romanzo fatto di dieci romanzi che cominciano e non finiscono, la parte interstiziale tra romanzo e romanzo, dopo aver generato quella frustrazione simbolica per cui la storia si interrompe non continua, appunto, quindi ha generato un orizzonte d'attesa che viene negato, nella parte interstiziale chi prende piede? La lettrice, il lettore, con un'intuizione geniale di Calvino che cerca di fare del suo libro una sorta di specchio vero e proprio in cui il lettore dovrebbe riflettersi, riflettersi nella sua addirittura postura fisica, come ricorderete in quelle incredibili prime pagine del libro in cui parla di tutte le posizioni in cui si può leggere, le situazioni in cui si può leggere. Dunque ti stai specchiando e non solo ti stai specchiando così in una dimensione ambientale o di postura, ti stai specchiando interiormente, intimamente, perché è come se Calvino ti dicesse continuamente che un libro non esiste se non ha un lettore. Infatti l'incipit, folgorante e tra l'altro oggi impensabile per qualunque scrittore, perché presupponeva anche evidentemente non solo una grande sicurezza di sé, perfino autoironica, ma anche una popolarità e un'autorevolezza inoppugnabili che oggi forse pochi potrebbero vantare con quel credito che aveva conquistato Calvino alla fine degli anni settanta. Dice stai per cominciare a leggere se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino e il libro ti dice che il libro stai leggendo, quindi questa dimensione neanche meta letteraria ma meta narrativa e poi l'estensione di un ragionamento sottile per certi versi anche disperato su quello che significa un libro senza lettori, un libro è un oggetto di mercato, Calvino lo richiama continuamente questo dato, anche se sembra piuttosto greve, un libro esiste se c'è qualcuno che lo interroga. E dicevo dell'interattività perché negli ultimi anni alcune serie televisive giocate sulla dimensione interattiva, penso a Bandersnatch, un lungo episodio della serie TV Black Mirror che è una serie sulla diciamo distopia tecnologica, episodi singoli e autosufficienti che raccontano una tecnologia minacciosa e sempre più pervasiva, a un certo punto i creatori di questa serie si inventano Bandersnatch, cioè un lunghissimo episodio che a un certo punto costantemente si interrompe e chiede allo spettatore un'interazione. Il personaggio deve prendere la scatola di Corn Flakes o prenderà invece il muffin e a seconda di quello che tu scegli la storia va in una certa direzione. Calvino negli anni 80 aveva molto presente questa dinamica che tra l'altro viene anche citata apertamente, non per via Calvino naturalmente, ma per via dell'oggetto che sto per evocare, viene citata direttamente anche da Bandersnatch, cioè il libro game, il libro pensato come un gioco, il libro che enigmisticamente in qualche modo ti porta verso tra l'altro proprio dell'estate scorsa, è il grande trionfo di un libro game redivivo in qualche modo di difficilissima soluzione, però anche quei libri game che non si manifestano come tali sono tali se noi riusciamo a evidenziare quell'aspetto che implica l'interazione del lettore e della lettrice, ovvero il completamento di quell'immaginario. Un libro esiste se esiste nell'immaginazione di un lettore, se quel lettore riesce a completare ciò su cui lo scrittore in qualche modo si è fermato, si è interrotto, dico quasi prendendo la lettera Calvino, si interrompe quel romanzo, ma quel romanzo può continuare proprio dentro l'immaginazione del lettore. In questo penso che da un certo punto di vista far sentire i nostri lettori e lettrici giovani i creatori o ricreatori potenziali del testo che stanno leggendo, non andando, non voglio essere frainteso, nella direzione della scrittura creativa, non necessariamente, ma proprio di una lettura creativa, cioè dell'interrogare anche poi accorgendosi della soluzione che lo scrittore propone e valutandola nel confronto con quella che avevamo immaginato noi, non per dire migliore quella dello scrittore, ma per coglierne ancora una volta la differenza e qualche volta l'esemplare originalità che può avere anche un effetto davvero di sorpresa, come dire ecco questo non avevo veramente pensato e lì tu è come se stessi dicendo senza dirlo, quello è uno scrittore, cioè quello per mestiere inventa quella soluzione particolarmente imprevedibile o particolarmente originale. C'è un ultimo passaggio che arriva sempre a Calvino e ha un testo che è incluso in un volume intitolato Mondo scritto, Mondo non scritto, è un suo discorso alla fiera del libro di Buenos Aires, siamo all'anno prima della morte di Calvino nel 1984 e qui c'è proprio rispetto al webinar di stasera in fondo il distillato, perché avevano chiesto a Calvino di fare un discorso sul destino dei libri negli anni a venire, quindi anche nel ventunesimo secolo a quel punto non così lontano. Il libro e i libri, prima parla di sé e poi si chiede se cambierà il nostro modo di leggere, voglio leggervi quest'ultima pagina che magari molti di voi già conoscono, che prova a rispondere a domande che in qualche modo sotterraneamente ci stiamo facendo anche noi e ce le facciamo da molto. Tu parli dei libri come di qualcosa, dice Calvino a se stesso, che c'è sempre stata e sempre ci sarà, ma siamo proprio sicuri che il libro ha davanti a sé un avvenire e sopravviverà alla concorrenza dei mezzi elettronici audiovisivi? Come si trasformerà? E poi cerca di rispondere, no? Dicei io sono sicuro che il nostro modo di leggere cambierà, ma altre rivoluzioni ci sono già state, forse in futuro ci saranno altri modi di leggere che noi non sospettiamo, mi sembra sbagliato, deprecare ogni novità tecnologica in nome dei valori umanistici in pericolo. Penso che ogni nuovo mezzo di comunicazione e diffusione delle parole, delle immagini e dei suoni possa riservare sviluppi creativi nuovi, nuove forme d'espressione e penso che una società più avanzata tecnologicamente potrà essere più ricca di stimoli, di scelte, di possibilità, di strumenti diversi, questo dovremmo ricordarcelo quando siamo un po' nella giornata apocalittica antitecnologica e avrà sempre più bisogno di leggere, di cose da leggere e di persone che leggano. Penso che la lettura non sia paragonabile con nessun altro mezzo d'apprendimento e di comunicazione, perché la lettura ha un suo ritmo, che è governato dalla volontà del lettore. La lettura apre spazi di interrogazione, di meditazione e di esame critico, insomma di libertà. La lettura ha un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre. Forse il tempo che potrebbe essere destinato alla lettura sarà sempre più occupato da altre cose, qui Calvino era stato facile profeta. Questo è vero già oggi. Comunque sia, chi ha bisogno di leggere, chi ha piacere di leggere, e leggere è certamente un bisogno piacere, continuerà a ricorrere ai libri, a quelli del passato e a quelli del futuro. Qui naturalmente è ottimista, però pone delle questioni sul rapporto tra quel gesto della lettura, la lettura che ha un suo ritmo, che non può essere accelerato, non può essere condizionato, e tutto il resto. Quegli stimoli che vengono da un mondo ipertecnologico, che però paradossalmente alla lettura può riportarci, ancora una volta, se noi percepiamo la differenza, l'unicità di quella esperienza. Se riusciamo a difenderne appunto non il valore assoluto, ma direi proprio il valore relativo al fatto che quella cosa lì non è possibile se non nell'immersione dentro un testo, e questa immersione non è soltanto uno spazio di libertà, ma voglio usare gli ultimi 4-5 minuti prima di fermarmi per aprire un dialogo su questo punto. Lui dice libertà. È chiaro che sta parlando anche di una libertà che ha natura politica, perché, a questo non dobbiamo dircelo tra noi, è ovvio che una persona che ha più letture non è necessariamente più intelligente, anzi non è detto, ma è sicuramente più attrezzata a non farsi rendere subalterna dai testi manomessi, turlupinanti, i testi ingannevoli, e quindi in qualche misura sa difendersi di più nel mondo, il che vuol dire essere più libero o più libera. Ecco, questo punto qui, che aveva veramente un grande spazio nel discorso di un linguista importantissimo che è stato Tullio De Mauro, noi l'abbiamo forse sottovalutato e in questo senso quando proviamo a mettere i nostri studenti nella condizione di riconoscere un valore alla lettura, le assegniamo un valore talvolta fin troppo letterario, nel senso che abbiamo dimenticato quanto possa essere anche più funzionalmente decisiva, decisivo l'aspetto della lettura come prassi quotidiana che ti allena in qualche misura a una libertà personale. Io quando vado nelle scuole, naturalmente vado moltissimo, mi trovo a far notare ai ragazzi quanto sia non solo oggi difficile orientarsi tra le fonti informative, quindi è chiaro che si è molto a rischio, sia che si abbiano 60 anni, sia che se ne abbiano 18, di essere deviati in qualche misura dalle informazioni sbagliate, mal scelte, da quelle ad arte create per ingannarci per l'appunto. Ecco, si può essere vittima di questo, ovviamente, se si ha lettori deboli è molto più facile, ma ci si può anche trovare, sembra paradossale ma è così, nella difficoltà di esprimere le proprie ragioni proprio perché si ha un difetto di lettura e di velocità e di capacità di lettura anche e di comprensione rapida. Peraltro una cosa che mi capita spesso di osservare quando vado nelle scuole è che se anche allo studente diciamo più disinvolto da un punto di vista del dibattito, insomma del discorso, si chiede di leggere ad alta voce, lì si rilevano sempre degli inciampi o delle difficoltà, cosa che comunque dovrebbe suonare sempre come campanello d'allarme perché non saper leggere ad alta voce significa non saper ricomporre due movimenti che sono quelli dell'intonazione appunto, dell'intonazione di senso e quelli della comprensione contemporanea, istantanea, diciamo, di ciò che stiamo leggendo, come se a un certo punto si divaricassero. Però il punto è che qualche volta, pure in modo un po' apparentemente giocosamente intemperante, dico, beh, insomma, sì, uno può anche annoiarsi sui libri, ma poi si accorgerà nella vita che ci sono momenti in cui hai bisogno di parole e queste parole non le hai perché sono parole che mancano oppure perché nei testi altrui risultano opache e quindi in qualche modo impenetrabili. E qui mi viene in mente uno spot televisivo, non usato in Italia, ma altrove, non so se era in Gran Bretagna, che per incentivare la lettura non giocava tutto, come facciamo di solito noi, sul paesaggio rassicurante, balsamico, la donna immersa nella lettura, l'uomo immerso nella lettura, ma invece ci mostrava una metropoli contemporanea come, e torna a un'espressione calviniana, letteralmente una foresta di segni indecifrabili che andavano dal cartellone pubblicitario alla scritta che passa su un led, alla mappatura, a segni e numeri che ci assediano da ogni parte a quelli dello smartphone e in questo senso restituiva quello spot, mostrandoci un padre che tiene per mano un figlio in questa foresta di segni, ci restituiva la complessità del contemporaneo che è una complessità testuale, non è soltanto una complessità, come dire, epidermica o appunto fattuale, è una complessità testuale perché io mi inoltro in una foresta di segni, per capire il mondo devo saperlo leggere, in questo senso ricondurrei il più possibile anche a questa dimensione, diciamo così, di competenza, uso una parola scivolosamente, diciamo scolastica, ma a questa competenza di lettura come una sorta di attrezzatura, strumento di lavoro e in qualche modo anche armatura, difesa, in un mondo che ti chiede appunto di essere letto, il rapporto tra mondo scritto e mondo non scritto diventa ancora più problematico di come lo immagina Calvino negli anni in cui scrive quel testo, ecco, e quindi in qualche modo persuasivo perché è come se fosse un superpotere che io non posso esimermi dall'avere, quello di leggere e leggere bene. E d'altra parte mi ricordo di aver capito molto tardi che uno dei libri che per via scolastica spesso vengono più, non dico detestati, ma insomma sicuramente meno amati come i Promessi Sposi e quel gigantesco e straordinario romanzo che è in realtà millanta un sugo della storia che è quello sbagliato perché Manzoni anche divertendosi forse con la credulonità del lettore contemporaneo e forse anche del postero dice che il sugo della storia è che la provvidenza manda i guai, ma poi i guai arrivano ma la provvidenza insomma li raddolcisce diciamo nel suo disegno, il sugo di tutta la storia un po' blando tutto sommato per quello straordinario romanzo. Il sugo sembrerebbe essere quello di qualche riga prima, cioè non quello evidenziato da Manzoni ma quello evidenziato da un personaggio, cioè da Renzo, quando dice di aver capito alla fine di tutte le sue traversie che da che c'era quella birberia, ovvero il leggere e lo scrivere, allora tanto valeva che se ne approfittasse e dunque decide di insegnare i suoi figli a leggere e a scrivere. Lì illuminante, un saggio di Umberto Eco che si chiama l'avventura della parola nei promessi sposi, ma in realtà tutto in negativo, quando invece, e su questo chiudo, io penso che l'avventura della parola nei promessi sposi, come aveva capito Eco, fosse l'avventura appunto dei senza parola, di quelli che dalle parole altrui vengono feriti, ingannati, umiliati, perché non sanno leggere il mondo, perché il mondo li schiaccia con la sua nube tossica di parole, parole di potere, parole che sono le grida, parole che sono gli atinucci della zecca garbugli, parole che sono le parole vili di Don Abbondio o le parole presuntuose di chi ha il potere. Io penso che ci sia un controcanto del discorso che fa Eco sull'avventura della parola nei promessi sposi e che è la parola che salva, la parola detta nel momento giusto, la parola che ci difende e la parola anche che ci emoziona. E l'unico esempio che richiamerei alla memoria è proprio quello del momento in cui Lucia davanti all'innominato piange, l'innominato è turbato da questo pianto, e sente la necessità di consolarla, ma non sa farlo e quindi chiama la serva e dice la saprei pure dire una parola che sappia consolare. E io trovo che quella frase che magari passa inosservata tra tante fasi dei promessi sposi c'è invece proprio un atto estremo, quasi commovente di fiducia nel potere della parola che salva, nella parola che cambia il rapporto con la realtà. Dilla quella parola, dice l'innominato brutalmente alla serva, perché lui non sa dirla, una parola che sa consolare. E allora in un tempo di estrema vulnerabilità, in questo dico le parole possono proteggerci, ma le parole possono anche salvarci in un modo molto più profondo di quanto siamo disposti a credere e in questo senso appunto penso che anche con una chiave diciamo così ludico-comparativa, una chiave che sia giocata sull'ibridazione, sull'interazione col vissuto, noi possiamo, se ci riesce diciamo così, ricaricare di senso un rapporto con il libro, provando a renderlo come dire una sfida conoscitiva, una scommessa conoscitiva, ma soprattutto individuando insieme allo studente, alla studentessa, lo specifico, la differenza, l'unicità di quell'esperienza tra le infinite esperienze che il mondo propone. Ecco, se c'è una cosa che uno può dire anche senza tema di essere smentito o senza tema di passare per feticista dei libri, è che non c'è niente che somigli a quell'esperienza e se noi riusciamo a persuadere anche una parte di quella platea studentesca, dell'unicità di quell'esperienza, probabilmente abbiamo fatto un lavoro efficace. Io mi fermo ovviamente qui, spero che insomma qualche spunto di riflessione sia arrivato, insomma me lo auguro e chiaramente adesso con l'aiuto di Lara magari, se c'è tempo apriamo anche un po' di dibattito. Beh, intanto ti ringrazio perché ha molte domande in realtà che erano arrivate, hai risposto già e sei stato, insomma, penso sia stato molto interessante e spero per tutti. Unisco un po' di domande che sono arrivate, che sono molto simili, sul classico, che sicuramente è un tema che per avvicinare i ragazzi al classico non è sempre scontato. Quali sono secondo te gli imprescindibili per adolescenti che spesso sono disinteressati e per non disgustarli, diciamo, per non iniziare subito con il troppo difficile o il troppo lontano? Qual è secondo un paio di classici che… Allora, classici bisogna anche vedere insomma come li collochiamo sulla linea del tempo, perché possono essere classici del Novecento, ovviamente classici invece di altre età. Io penso una cosa, che per quanto attiene ai classici più remoti, quindi proprio quelli addirittura di epoca greco-latina, se vogliamo, fondativi della nostra letteratura europea, penso che ci sia un potere assoluto nella matrice narrativa, cioè il fatto stesso di poter riraccontare, quasi parafrasandola, l'Eneide o l'Iliade o l'Odissea o appunto, non lo so, qualche poema cavalleresco, questo ci dà la misura della forza di quella narrazione, anche come narrazione archetipica, nel senso che anche l'altro giorno in una scuola a Pescara i ragazzi celebravano Mare Fuori, come questa serie che adesso toccherà a tutti gli insegnanti di vedere, perché è stata una specie di exploit incredibile che ha coinvolto la RAI, quindi la vecchia RAI che si è improvvisamente trovata a proporre un oggetto che finalmente è piaciuto ai giovanissimi per via di un tam-tam progressivo e sotterraneo. Dicevano di Mare Fuori e raccontando, perché io poi a un certo punto li avevo sollecitati a spiegarmi perché, questo credo che sia anche un'altra buona pratica, farsi spiegare da loro perché una certa cosa gli piace, ma senza accettare però, lì non bisogna fare sconti, accettare l'approssimazione, l'imprecisione, bisogna essere critici, analitici diciamo di quello che ci piace, che sia la canzone del trapper, che sia appunto Mare Fuori. E nel momento in cui rivelavano le ragioni per cui erano affascinati da Mare Fuori, è una serie per chi non la conoscesse, è giocata sulle vicende, i ragazzini che hanno problemi con la giustizia e che quindi finiscono a un certo punto in un carcere minorile, quindi c'è questa dimensione che ancora una volta, ecco appunto, è archetipica. Ci siamo resi conto, mentre loro stessi parlavano, che dentro c'erano proprio le matrici dell'epica e c'erano tra l'altro, c'era una divaricazione quasi parossistica tra il bene e il male, no? E anche però quella zona di compromesso in cui tutti navighiamo, però sapendo dove sta il bene e dove sta il male, quindi inciampiamo pur sapendo perfettamente cosa è bene e cosa è male. Ecco, questo dico che anche a partire, senza giocare troppo col post-moderno, però anche a partire dall'oggetto che loro stessi sottopongono, lì il classico può non disgustarli in quanto matrice, a loro naturalmente ignota, di narrazioni che si, come dire, sovrappongono, stratificano, accavallano nel tempo e che riproducono sempre gli stessi schemi. Naturalmente nel corso del ventesimo secolo noi ci siamo abituati a un certo tipo di classico anche scolastico, nel senso che un po' le nostre abitudini di lettori, un po' le abitudini dei nostri insegnanti ci hanno portato a pensare che ecco la trilogia degli antenati di Calvino, l'amico ritrovato, se questo è un uomo di Primo Levi, siano inaggirabili, diciamo così. E io non credo che non lo siano per carità, ma credo anche che però, appunto visto che qualcuno ha usato la parola disgustarli, dico che mi diceva stamattina un papà di una ragazza o di un ragazzo sui 15 anni che aveva trovato assolutamente indigesto il barone rampante ma si è entusiasmato per le città invisibili. Questa dimostrazione del fatto che sulla carta sembrerebbe tanto facile il barone rampante e tanto difficile le città invisibili. Ma il valore simbolico, il portato simbolico delle città invisibili e soprattutto la sua brevità, la sua estrema brevità, può essere oggi addirittura più efficace che il barone rampante, che io amo incondizionatamente, ma mi rendo conto che pur nella trasparenza della prosa di Calvino, oppure la prosa della fine degli anni 50, assolutamente iperleggibile, però quel sovratempo, quella dimensione dell'illuminismo di maniera che lui racconta potrebbe addirittura essere piuttosto inerte nell'immaginazione, nell'immaginario di un adolescente, quanto invece non è la stilizzazione di forme di convivenza umana che propone le città invisibili. Questo per dire, non voglio fare un elenco, voglio dire che bisogna sempre un po' ripassare al vaglio dell'orizzonte contemporaneo la lettura che abbiamo inserito col pilota automatico, problematizzarla in qualche modo e magari anche accettare che sia respinta a patto però che quel respingimento, diciamo così, che quel rifiuto sia motivato non soltanto con qualcosa di stizzoso e di appunto pregiudiziale o di appunto istintivo, ma che sia portato alla radice per poi magari essere anche superato. Ecco qua penso che provare anche a cercare tra gli autori quelli più solidi, che chiamiamo appunto classici, piste alternative non sia sbagliato come proprio indicazione di metodo, cioè non è detto, faccio un esempio, che dare l'isola di Arturo di Elsa Morante sortisca più efficacia che dare non la storia Tucur, perché è un librone, ma sono quasi del tutto convinto che certe pagine della storia di Elsa Morante, che invece avevamo supposto impraticabile anche per via di mole e quindi magari fidiamo più in un classico dell'adolescenza e sull'adolescenza come l'isola di Arturo, libro straordinario, nessuno mette in discussione i valori e figurarsi se posso metterli in discussione io, che amo incredibilmente questi autori, però, e faccio un ultimo esempio, invece che Lessico Familiare, altro libro bellissimo e importantissimo che però è lettera morta, perché? Perché se non ha le note a piedi pagina anche orali dell'insegnante, quel libro parla di un mondo, è un mondo scomparso, è un mondo intellettuale, culturale, politico, che non parla più e non parla nemmeno linguisticamente, perché c'è anche un problema diciamo di opacità nell'idioletto che la Ginzburg racconta e muove dentro la pagina, noi ci siamo tanti innamorati di Lessico Familiare, ma va sicuro che su 25 studenti si appassioneranno un mezzo studente a Lessico Familiare, viceversa un libro come Caro Michele, che appunto magari uno non suppone dello stesso valore di Lessico Familiare, in realtà racconta la storia di un ragazzo di 20 anni che non viene capito da sua madre e questa donna che si chiama Adriana, che sembra vecchissima e che invece ha 40 anni, perché la percezione dell'età cambia anche a seconda delle epoche, tu scopri che è una 45 anni ma sembra una signora più, molto più avanti con l'età, ecco, è una donna disperata perché non riesce a capire questo figlio a cui, come ricorderete o come ricorderanno alcuni fra voi, manda delle lettere a cui Michele praticamente non risponde mai. Ho fatto degli esperimenti con Caro Michele, ho fatto degli esperimenti con Dietro la Porta di Giorgio Bassani, anziché il Giardino dei Finzi Contini, e commovente sta perché il Giardino dei Finzi Contini, che ha avuto uno straordinario successo, funziona incredibilmente meno di un libro più intenso e più compatto e contratto come dietro la porta, ma ancora di più mi ha sconvolto, quasi sconvolto, adesso non voglio essere troppo enfatico, l'altro giorno fare una lezione per degli studenti sugli occhiali d'oro e ho visto la commozione di questi lettori e lettrici che ritrovavano negli occhiali d'oro il tema che oggi chiameremmo, se non del body shaming, in qualche modo dell'isolamento, dell'esclusione, di tutto ciò che in qualche modo attiene all'incapacità di accettare la diversità. Ecco, un libro come gli occhiali d'oro, che pure racconta una storia lontanissima, in un tempo lontanissimo, può avere qualche invece effetto proprio se riusciamo, non attualizzarlo, che è una parola sempre un po' greve, un po' corriva, sempre un po' prepotente, ma a connetterlo a un orizzonte di senso più contemporaneo, che poi non è più contemporaneo, ma è eterno per l'appunto, perché il dottor Fadigati del libro di Bassani è un omosessuale che viene espulso dalla società, come oggi potrebbe essere espulsa una persona che ha un'identità più complessa, diciamo così, no? Ecco, questo è semplicemente un'indicazione di metodo, no? A dire, non fidiamoci del pilota automatico di ciò che è stato già digerito da generazioni, anche tra l'altro a fatica in molti casi. Proviamo anche nel solco degli stessi autori, cioè quelli su cui possiamo mettere la mano sul fuoco a variare, per verificare, perché il libro che è apparentemente minore, adesso non che la storia sia minore, ma diciamo quello meno apparentemente scolastico, può funzionare di più. Questo naturalmente ci porterebbe a fare una casistica fittissima, però appunto poi non è una questione solo di titoli, è una questione proprio di ragionamento, secondo me, sul potere che possono avere certi libri rispetto a quell'età e soprattutto rispetto a un certo momento storico. Mi sembra un'impostazione su cui riflettere, su cui credo che l'antologia specchi molto questa impostazione e ti ringrazio molto e spero che tutti gli spunti che hai dato potranno essere utilizzati in classe. E ti ringrazio tanto. Grazie a tutti voi. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie. Ci sono ovviamente, ecco, se ci sono domande invece ulteriori, magari potete, non so se c'è un riferimento, una mail che Lara puoi lasciare. Certo, nella newsletter sicuramente che arriverà in seguito, troverete il mio indirizzo e se ci sono altre domande. E anche per avere, o appunto, occasioni, diciamo, di interlocuzione più diretta con me, volendo, oppure anche per avere informazioni sull'infinito narrare, cioè su questa antologia in cui effettivamente ci siamo posti anche un po' i temi di cui stiamo discutendo, ma anche in più di come, che poi è tutto un altro tema, aggiungo solo questo Lara e poi chiudiamo, per dire che effettivamente le nuove, sono percorsi dentro l'antologia di Massimo Recalcati studiati proprio su questo, diciamo che le nuove, vecchie, terne, ma in qualche modo nuove in quanto a linguaggi esigenze manifestate dagli adolescenti rispetto alla scoperta dell'identità, non solo sessuale, l'identità anche emotiva, intellettuale, eccetera. Ecco, tutto questo naturalmente può avere un riflesso sulle scelte di lettura che facciamo, anche lì non facendoci troppo condizionare dall'imperativo categorico dell'attualità, quindi andando a cercare solo testi contemporanei, ma interrogando i testi del passato più o meno recente in una chiave non convenzionale. Cioè, andando a pensare, e finisco davvero con quest'ultimo esempio, che negli occhiali d'oro, prima che le leggi razziali e l'urto delle leggi razziali, che pure la minaccia incombente, noi troviamo la quotidianità di un dottore che appunto viene escluso da una comunità perché ha dei gusti sessuali, delle preferenze sessuali diverse. Cioè voglio dire che ancora una volta, se noi preliminarmente poniamo come ostacolo il contesto storico, allora questo è Giorgio Bassani, Ferrara, gli anni trenta, il fascismo, e invece la storia, la storia di un medico stimatissimo che arriva a Ferrara da Venezia e comincia a essere stimato, ma improvvisamente poi delle voci che lo riguardano, delle occhiatacce, delle alzate di spalla, gli renderanno impossibile lavorare. Di lì in avanti il dottor Fadigati sarà uno di cui si mugugna qualcosa, ma di cui ci si vergogna. Ecco, questo per dire, arriva prima di tutto un contesto, ma è anche l'occasione per interrogare, secondo domande interrogativi del presente, che nel presente hanno grande risonanza, un libro del passato, non brutalmente attualizzandolo, ma costringendolo in qualche modo a rivelare anche la sostanza che magari avevamo lasciato più inerte a favore di un complesso di riflessioni, diciamo storico-politiche, che possono arrivare invece come successive. Grazie della pazienza e dell'attenzione, spero comunque di risentire alcuni tra voi attraverso magari i canali appunto che Lara poi vi propone. Assolutamente, vi invito a scoprire davvero l'atologia e grazie, grazie mille. Buona serata, arrivederci a tutti.